benvenuti anche oggi sul mio canale oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsetta che ho chiamato sami la borsetta è realizzata con una rocca di fur e una rocca di cordino ares sfumato entrambi i cordini sono di borgo dei pazzi per questo filato ed altri filati del sito di borgo dei pazzi avete a disposizione uno sconto di 5 euro con un codice appropriato nel box informazioni nel primo commento vi metto il codice se volete acquistare qualche prodotto da loro in più vi servirà una molla a scatto da 24 cm perché volesse realizzare lo stesso modello di borsa ma solo con il cordino sul mio canale trovate il link del tutorial della borsa violetta adesso passiamo al tutorial iniziamo il tutorial mettendo su una larghezza di catenelle vedete che sia più o meno corrispondente alla larghezza della molla ovviamente tenete conto che poi leggermente alla molla la la lunghezza ovviamente la nostra catenella andrà anche ad allargarsi ora io inizio con 53 catenelle uncinetto tre e mezzo entro vedete nell'anellino retro in questa maniera e vado a realizzare una maglia bassa in ogni punto questa lavorazione tende leggermente a stringere la lunghezza della catenella ora in base alla vostra molla ovviamente la mia da 19 cm in questo caso però in base alla molla ovviamente metterete su le vostre catenelle in questa maniera vedete vado a realizzare una riga di maglie basse completa fino ad arrivare alla fine della riga ho completato vedete la mia riga la vado ad accostare guardate vedete quindi con l'estensibilità poi arriva alla metà ovviamente perché poi l'altra metà ovviamente del pannello che andiamo a lavorare dritto lo andremo attaccare dall'altra parte adesso guardate mi trovo in questa maniera qui io giro senza fare la catenella in questo caso preferisco ovviamente voi potete tranquillamente fare la catenella entro nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa entra nella seconda e lavoro un'altra maglia bassa e così via una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante per questa lavorazione vi consiglio un filato più sottile quindi anche quei cordini diciamo che a volte troviamo leggermente sottili che magari si vanno a lavorare con due e mezzo tre io ve lo consiglio ancora meglio anche se con ares mi sono trovata benissimo però magari se non lo avete e avete in casa magari qualche filato di questo sottile vi dico che per questo tipo di lavorazione vanno benissimo infatti vi farò un modello con un filato più sottile un cordino più sottile e quello lì sinceramente perfetto per questa lavorazione sempre di produzione di burgo e proseguiamo fino a riga completata la seconda riga noi dobbiamo andare a proseguire sempre alla stessa maniera io giro di nuovo vedete il mio lavoro entro nella prima maglia bassa per lavoro la maglia bassa una maglia bassa in ogni punto completando fino a fine riga adesso lavorate in questa maniera qui fino ad arrivare ad uno spessore che vi permette di avvolgere la molla quindi di chiudere attraverso vedete ovviamente questo spessore io andrò a fare circa 10 righe ho realizzato precisamente 10 righe guardatevi faccio vedere a questo punto vedete si avvolge completamente vedete la molla quindi è così che dovete andare a lavorare quindi non c'è un numero specifico a questo punto vedete anche la larghezza guardate corrisponde fino alle viti vedete in questa maniera qui ovviamente anche se la fate leggermente più stretta non succede niente perché comunque il filato se lo se lo andiamo a stendere un po c'è adesso a questo punto quindi non vi serve sapere i centimetri perché è chiaro che ogni affinato avrà uno spessore ovviamente diverso e quindi vedete questa parte avrà righe diverse io ho fatto la stessa lavorazione con un cordino opaco di borgo dei pazzi e le righe sono differenti quindi sarà sempre diverso adesso guardate mi trovo in questa maniera qui e dobbiamo andare a cucire in maniera tubolare quindi entro nella prima maglia da questa parte qui prendo la solina da quest'altra parte e vado a chiudere quindi tiro il filato e chiudo vedete ora per questo lato ovviamente faccio una catenella entro di nuovo e lavoro una maglia bassa e lavoro vedete una maglia bassa da un lato quindi prendendo vedete da questa parte qui entro e poi di fronte e lavoro la maglia bassa chiudendo praticamente il tubolare questa parte è veramente semplice da realizzare potete realizzare ovviamente con qualsiasi filato e poi la borsa ovviamente il seguito della borsa la potete realizzare scusate con qualsiasi punto questa parte qui in realtà sarà uguale per tutti i modelli che voi decidete di andare a lavorare quindi la prima parte uguale quindi le misure saranno sempre queste in base alla vostra molla io adesso vado a proseguire fino a completare la costura arrivo quindi guardate nell'ultimo punto vedete prendo questo sempre quello di fronte di entrambe in ultima maia bassa ed ecco vedete che abbiamo chiuso in modo che ci sia lo spazio per infilare la nostra molla adesso io devo girare il mio lavoro e deve iniziare la lavorazione che inizierò usando vedete due filati quindi inizio usando il forro e quest'altro filato quindi guardate entro nella prima maglia e carico entrambe i filati così vedete ricarichiamo entrambe così e ovviamente poi abbiamo bisogno di cambiare il nostro uncinetto io vedete perché va troppo è troppo doppio ovviamente allora io in questo caso inizio provando con un quattro e mezzo che credo debba andare bene ovviamente dovete fare delle prove in base sempre ai vostri filati e ricordate quindi entriamo di nuovo vedete carichiamo il filo e lavoriamo la prima maglia bassa ora entriamo nel secondo punto e lavoriamo una seconda e così via vedete per tutta la nostra lavorazione quindi entriamo e lavoriamo ed ecco ovviamente proseguiamo così fino a finirica quando arriviamo vedete nell'ultimo punto entriamo lavoriamo l'ultima e mai abbassa della riga ed ecco guardate come si presenta la lavorazione questo contrasto è veramente molto bello la fantasia con il fu adesso io giro il mio lavoro entro all'interno della prima maia bassa e lavora maia bassa adesso guardate noi riusciamo a vedere bene gli spazi che ho lavorato con un altro spazio con uno spazio con uno spazio entro in ogni spazio e lavoro un'altra maglia vedete in questa maniera qui e così deve essere in effetti tutta la nostra lavorazione quindi sarà una maglia bassa in ogni punto in righe di andata e ritorno se ne riuscite a vedere spostate un po vedete i peluchi qui abbiamo lavorato la maglia entriamo in quella dopo che abbiamo lavorato una maglia entriamo in quella dopo e deve essere così per tutta la riga fino a completare tutte le maglie completata vedete la seconda riga giro di nuovo il mio lavoro inizio l'altra riga in questa maniera qui entro sempre vedete nella prima maia bassa che devo lavorare sempre maglie basse nella riga di lavorazione siccome quando ne all andiamo a lavorare la maglia bassa vedete le frange praticamente vanno ad inserirsi all'interno basse la vedete che mentre lavorate fate un pochino così questo perché per quanto riguarda la lavorazione a pannello ovviamente sono delle righe di andata e ritorno mentre per la lavorazione in tondo io la lavoro al rovescio infatti potete andare a vedere il tutorial della borsa che ho realizzato sempre con il fur che più grande con il fondo e da una lavorazione leggermente diversa però lavorandola in tondo noi praticamente riusciamo ad avere diciamo la parte più folta del fur da un solo lato quindi dal lato esterno adesso guardate vado a proseguire e quindi vado a adesso vado a realizzare un tot di righe che sarà praticamente con l'altezza della mia borsa anche questo è opzionale dipende quanto volete far grande vedete man mano che lavoro faccio così è opzionale perché dipende quanto voi volete fare alta la vostra borsa io non fare una borsa molto alta ma insomma nella media ok andiamo a proseguire e poi video quante righe e centimetri ho realizzato io una volta che ho completato vedete le righe fino all'ultimo punto ovviamente mi raccomando di non saltare l'ultimo punto perché meno visibile noi tagliamo solo il filo del fur vedete solo questo tagliamo così togliamo il gomitolino del furro abbiamo vedete qui la codina che dopo ovviamente andiamo a nascondere ok e dobbiamo girare il lavoro e andare ovviamente a proseguire io vi dico i centimetri che ho lavorato nel mio caso sono 30 aspettate vediamo fino allora ho lavorato guardate fino a qui quindi 31 cm ho lavorato a doppio filo ok adesso giro il mio lavoro guardate lo giro e qui ho il gomito vedete del filato ares entro all'interno nel primo punto e prendo solo il filato ares e dentro in ogni punto lavorando una maglia bassa in ogni punto ovviamente a questo punto se noi abbiamo lavorato con un uncinetto più piccoli avevo lavorato con il tre e mezzo devo cambiare l'uncinetto e lavorare con lo stesso uncinetto che ho lavorato le prime dieci righe una maglia bassa in ogni punto vedete semplicemente così dovete trovarvi chiaramente gli stessi punti iniziali se abbiamo lavorato un tot di maglie basse avremo le stesse maglie basse ovviamente anche qua chiaramente adesso io vado a proseguire e realizzo un totale di dieci righe come ho realizzato all'inizio del pannello quindi guardate quando ho completato la prima riga io giro il mio lavoro sempre alla stessa maniera e lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa e così andiamo a proseguire per dieci righe adesso guardate ho completato le dieci righe vedete proprio uguali alle prime dieci la codina tagliamo un po di codina ovviamente un filo un po più abbondante regolatevi più o meno ago e ovviamente dobbiamo andare a cucire vedete la piega ok quindi io metto su così vedete in questa maniera qui qui ho l'acqua e dentro in questa maniera e andiamo proprio pari pari vedete guardate qui adesso io il filato vado pari pari così a cucire quando arrivo vedete qui alla fine cerco di chiudere bene ovviamente di saldare bene vedete con un altro giro in questa maniera qui e chiudo bene ovviamente nascondiamo il filo vedete all'interno e ma andiamo a saldare adesso guardate io vado a cucire con un filo del foro una cosa che dobbiamo fare allineare bene molto bene vedete le due aperture devono combaciare e poi andiamo a chiudere nei lati io uso il filo del foro vedete mi salvo bene bene in questa maniera qui possiamo fare anche un modino questo andiamo a salvare dopo la capovolgiamo la borsa così eventuali non si vedrà e vado vedete stendo bene bene la lavorazione mi ha certo vedete che qui ho lasciato aperto ma comunque che deve combaciare vedete lasciamo aperto e poi entriamo in un punto da un lato quindi da questo lato è di fronte stessa cosa per ogni punto vedete da un lato e di fronte allora a questo punto vedete abbiamo cucito in maniera lineare adesso fate la stessa cosa dall'altra parte adesso io vado a capovolge la mia borsa andiamo a questo punto a ritagliare una base di feltro vedete uguale alla fodera praticamente alla borsa ripiegata in due che ci farà da fodera e come per la borsa anche qui vedete tagliamo le punte quindi farete lo stesso sistema che adesso andremo a fare per la borsa e adesso dobbiamo andare a realizzare i laterali io qui o vedete hanno sentite bene bene per capirci così vedete o la punta qui faccio così guardate o la punta interna così esterna così vedete qui ok ora vediamo se così ce la facciamo così non ce la facciamo però potete andare a misurare con un metro più o meno la piega che abbiamo fatto abbiamo fatto una piega di precisi precisi sono 12 cm e questi 12 cm si vanno a cucire li vado a cucire con il filato fu vedete perché così non si noterà per la cucitura più di tanto guardate vedete entriamo di nuovo ecco qui ovviamente fatevi spazio dovete fare più attenzione perché magari più difficile individuare i punti però con un po di pazienza ovviamente che richiesta per tutti i lavori artigianali ce la farete ed ecco qui quindi cerchiamo di stabilire bene la fine della lavorazione ed ecco qui quindi io termino qui il mio filo è qui io vado in questo ultimo punto entro di nuovo giusto per andare a saldare bene e abbiamo vedete creato il nostro laterale entro all'interno ovviamente qui e sulla parte vedete del rovescio noi abbiamo questa questa punta praticamente cucita che possiamo lasciare così oppure se vi dà fastidio potete semplicemente avanzare con questo filato quindi avanzate un pochino fino ad arrivare al centro della punta e lo potete praticamente bloccare lo potete bloccare sia sui lati quindi vedete qui per farvi capire la base quindi posso fermarlo qui ai lati o sul basso quindi qui su quello che sarà il fondo ok questo dovete deciderlo voi io adesso lo blocco sul basso quindi sulla parte del fondo mi stendo bene e quindi faccio qualche punto vedete così per bloccarlo si vede poco ovviamente dalla telecamera a causa del fatto che questo filato è è bello però lascia poco all'immaginazione però il tutto io già vi ho fatto un tutorial con questo sistema quindi per capire proprio bene bene il sistema potete anche andare a vedere il tutorial della borsa violetta che praticamente lo stesso sistema però questa volta l'ho fatto con questo filato qui perché l'idea mi piaceva era carina ed ecco qui quindi vedete guardate abbiamo fatto il laterale eccolo qui da un semplice pannello ed ecco qui le codine ovviamente andate a nascondere adesso dobbiamo fare la stessa cosa di qua e ovviamente ci dobbiamo aiutare con il metro perché a differenza di quando facciamo quelle con il cordino che contiamo le righe può contare le righe un pochino difficile quindi abbiamo detto di là 12 cm di piega e qui sono 12 anche qui ovviamente assicuratevi del centro assicuratevi di tante cose e andate a cucire anche qui alla stessa maniera a questo punto vedete io inserisco la fodera e la vado a uscire la fodera deve essere cucita al di sotto vedete della piega quindi qui abbiamo la piega noi dobbiamo uscire al di sotto e andiamo a uscire ovviamente con del filo di nylon come vi faccio vedere spesso nei miei tutorial io adesso vado a cucire e poi dopo andiamo ad inserire ovviamente la molla adesso guardate noi togliamo la vita vedete separiamo la molla ci sono due viti una da un lato e una dall'altra noi la togliamo e andiamo ad inserirla vedete io già uscito con del filo di nylon e vado ad inserire la mia molla in questa maniera qui entro da questo lato qua vedete non entro da questo che alla punta ma da questo e la vado ovviamente ad inserire è uno inseriamo ovviamente anche l'altra vedete come e adesso guardate accostiamo bene in questa maniera e ovviamente andiamo ad infilare questa per chiudere stessa cosa ovviamente anche da quest'altra parte a questo punto abbiamo realizzato vedete la nostra borsa ovviamente questa borsa è un po più larga rispetto ad un classico vedete io l'ho irrigidita chiaramente ed eccola qui ovviamente possiamo farla anche più stretta o anche più alta io spero che il tutorial vi sia piaciuto chiaramente questa tecnica può essere usata per vari modelli di borsa con chiusura a molla vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial e alla a a a Grazie.